Sono all'aeroporto di Fiumicino e sto partendo per Parigi. A Parigi può tornarci cento volte e trovare sempre qualcosa di nuovo e di stimolante da fare e da visitare. È una città in continua evoluzione, con un invidiabile fermento artistico e culturale in grado di stupire a qualsiasi età, da soli, in coppia, con gli amici o in famiglia. Una di quelle città in cui torneresti una, due, tre, cento volte. Beh, io ci sono tornato per la terza volta, pronto a godermela come se fosse la prima. Ecco ciò che ho visto. Come prima cosa ho ammirato Parigi dall'alto grazie a Flyview, facendo un volo virtuale a bordo di un jetpack, ma che sembrava tutti gli effetti reali. Sono andato poi all'Atelier de Lumière, il primo centro d'arte digitale della capitale francese, in cui periodicamente vengono allestite mostre che rendono omaggio ai grandi nomi della storia dell'arte, come quella su Van Gogh, a cui ho assistito io. Ho visitato la tomba di Napoleone Bonaparte, il cui corpo riposa in un grande sarcofago di Porfito all'Hôtel des Invalides, un complesso di edifici del XVII secolo realizzati per ospitare i soldati invalidi. Dove si trova peraltro anche il Musée de l'Armée. Ho fatto un po' di shopping nello storico grande magazzino BHV Marais, fondato nel 1856. Dalla cui terrazza si gode di una vista mozzafiato su tutto il centro città. E sono andato a visitare la fondazione Lafayette Anticipation, in cui gli artisti contemporanei creano ed espongono le proprie opere. Non potevo però andarmene senza aver salutato Notre-Dame de Paris, profondamente ferita dall'incendio del 15 aprile 2019. Dove ho mangiato? Delle ottime gallette salate e dolci da Udux de Bourgogne. Un buon piatto di pasta e uno squisito tiramisù d'Italie. E specialità francesi in un'atmosfera romanticissima a bordo di Bateau Parisien, navigando sulla Senna. E come degna conclusione di questo viaggio indimenticabile, o assistito a una cena spettacolo a Lido de Paris, lo storico cabaret sugli Champs-Élysées, aperto nel 1946. A bientôt Paris! Ci rivedremo presto!